guardando la partita di domani c'è tutto quello che tutti quelli fatti c'è sicuramente solo una sono le sfide in più sono i motivi in più dove in quali noi possiamo prendere un'altra motivazione che c'è il bisogno perché motivati sicuramente saremo però le tradizie sono qua per essere battute quindi noi siamo assolutamente completamente motivati e pronti a sfidare domani la seviglia per la possibilità di giocare insieme con lucas io non vedo problema però bisogna capire che anche il modulo è fatto più per giocare uno non due quindi sono le scelte di mister che decide che vede che che pensa che in che sistema o che con quali giocatori le partite vanno vinte come come ha fatto mille volte bene quindi sicuramente farà pure domani per quanto ci crediamo non è su questo non si dice io non lascio neanche a discutere perché crediamo tutti e crediamo tanto nelle partite come come quella che ci aspetta domani sicuramente l'approccio su quello pure non si dovrebbe discutere perché dovrebbe essere una cosa normale insieme a lucidità secondo me che in situazioni delicati nella partita le squadre che hanno più lucidità sicuramente hanno più possibilità di vincere ci sono noi l'abbiamo analizzato la partita che abbiamo fatto l'abbiamo visto un paio di partite che loro hanno fatto ultimamente siamo consapevole del momento di loro che momentaneamente non è al massimo però non sottolotiamo e non sopravvalutiamo la squadra di seviglia che sicuramente una grande squadra i punti deboli i punti della forza io mantenerei per per noi perché praticamente facciamo le facciamo tutto per essere per per avere più chance domani grazie a tutti